Ciao amici, ci siamo qui per parlare degli anestetismi delle cellulite e partiamo di che cos'è la cellulite. Nel lontano 2008 ho scritto questo libro con Newton e Compton, il modo più facile per combattere le cellulite. E nel tempo tante cose sono cambiate, ho scoperto il trampolino, facendo tantissime prove con le pedane vibrante, abbiamo visto altri meravigliosi cambiamenti su delle persone. Io adesso vorrei fare, partiamo da che cos'è la cellulite, perché per esempio la cellulite è una questione di pelle, questa è una pelle sintetica, ovviamente semplicemente per farti capire. La cellulite si forma soltanto nella zona sottocutanea, solo sulla zona sottocutanea, non succede nelle viscere, non succede nel grasso viscerale, si succede soltanto nel grasso sottocutaneo. Perché? Allora, innanzitutto non è soltanto un problema di grasso e di liquidi, è un problema di tessuto connettivo. Avete mai provato di togliere la pelle del pollo? Ti prendi la pelle e cominci a portarla via, cominci a tirarla via e c'è proprio delle aderenze. Queste aderenze è il tessuto connettivo. Il tessuto connettivo è in pratica una rete che contiene tutto. Lo vedi quando vedi un muscolo tipo una bistecca, lo vedi quando provi a portare via la pelle del pollo perché vuoi fare un brodo di pollo senza pelle. E questo è il tessuto connettivo, è dove veramente cominciamo a avere il primo e più grande fattore delle cellulite. Perché qual è il problema? Se io, ok, partiamo anche leggermente più indietro. Il nostro corpo ha una scala di valori. Esattamente come ieri ho spiegato che il nostro corpo sta sempre provando di risparmiare energia, un po' la stessa cosa succede quando noi parliamo della zona sottocutaneo. Perché? Perché c'è una scala di valori. Allora, perché si chiamano organi vitali? Perché nel senso di loro noi non saremo in vita. Sono vitali per questo. Quando fa freddo, per esempio, se c'è tanto freddo, esci di fuori. Noterete che diventano bianche le finale delle vostre dita, sia delle mani, sia dei piedi. Perché questo? Perché il tuo corpo, quando fa molto freddo, dice, sai che facciamo? Riduciamo il flusso sanguigno sulla zona periferica, per portare il sangue, mantenere il sangue dentro il torace, per il cervello e per tutti gli organi vitali, a discalpito delle falange. Perché? Se io perdo un falange perché magari sto troppo fuori a freddo, non è una questione vitale. Cioè io posso sopravvivere senza una falange, non posso sopravvivere senza un organi vitale. Allora, capendo questo discorso, poi che cosa succede? Il minuto che ritorni al caldo, noterete, quasi si bruciano le mani per quanto si riapre la vostra microcircolo. Andiamo da vasocostrizione a vasodilatazione. Ti senti quasi di brucia per quanto sangue viene messo nella zona per riportare l'ossigeno, ripristinare le omiostasi nella zona. Allora, la cellulite, l'estetismo della cellulite, la panicolocappatia sclerotica, ok? Perché ci sono tante, cioè non, cellulite tecnicamente non esiste. Esiste un problema sclerotico del panicolo sottocutaneo di grasso e quello sarebbe quello che noi chiamiamo la pelle a materasso o cellulite. Quindi quando vedete i bozzetti sulle cosce o sulle parti del corpo, è un problema del tessuto connettivo che non riesce più a essere costruito correttamente. Perché? Perché se io sono pieno di stress, fumo, prendo la pillola, non mi aleno, sono a vita sedentaria, metto i vestiti troppo stretti, il mio corpo prima deve dare ossigeno e, diciamo, sostegno vitale agli organi interni. A questo punto tutti i nutrimenti vengono portati là e a volte, a volte se siamo troppo sedentari, il microcircolo viene un po' dimenticato. Quando il microcircolo non sta vascularizzando e portando nutrienti sulla zona sottocutaneo a sufficienza, non portano via neanche i detriti. A questo punto i detriti cominciano a creare una sotto, diciamo, ambientazione, diciamo, un'atmosfera molto nocivo, perché le metaboliti non vengono portate via dal microcircolo e diventa sclerotica. Perché diventa sclerotica la zona? Perché i fibroblasti cominciano a produrre tessuto connettivo in modo sbagliato, la linfa che non riesce a transitare nella zona diventa gelificata, così le fibroblasti cominciano a produrre su quello gel una sorta di rete che comincia a vedere tutto a bozzetti. E sono aderenze, sono proprio un problema di aderenze sottocutaneo, dove quando il grasso, poi magari abbiamo altri depositi di grassi, escono fuori e vedi i bozzetti. Perché io ho il grasso sottocutaneo, questo è grasso sottocutaneo, scusatemi, mi metto così. Questo è grasso sottocutaneo, tutti hanno grasso sottocutaneo, serve il grasso sottocutaneo. La differenza di avere grasso sottocutaneo e avere l'inestetismo delle cellulite è proprio un problema del tessuto connettivo che comincia a essere non omogeneo. Dissomogeneo, ok? Durone da una parte, più leggero dall'altra parte e disomogenea. Ok, andiamo. Capendo questo, che cosa possiamo fare per migliorare l'inestetismo delle cellulite? La prima cosa è non aspettare. Ci sono diversi stadi degli anestetismi delle cellulite. Cominciamo con la prima stadi, se spingi cominci a vedere che c'è ritenzione idrica. Quando stai seduto cominci a vedere le bozzette che stanno sotto, proprio visibili da seduti. Poi cominciai a diventare duroni fino a stadio 4 dove vedi anche lontano di 50 metri, diciamo, questi duroni, questa pelle a materasso. Ma la cosa incredibile che ho visto nella mia carriera è che ci sono delle cose che possono ammorbidire, lenire, aiutare questi duroni a diventare molto molto più sciolti. Ritorna non solo l'omogeneità, cioè vedi che diventa più liscia la gamba, diventa più liscia la gamba, diventa anche veramente drenata la gamba. E abbiamo diversi armi che possiamo utilizzare. Allora, ovviamente il movimento serve, ma a volte non tutti i movimenti sono ottimali. Cose che sono troppo, troppo, troppo ad alto impatto a terra possono purtroppo peggiorare le situazioni perché possono peggiorare il ritorno lenfatico. Ecco perché mi piace il trampolino. Il trampolino riduce tantissimo il controcolpo, per esempio, perché io sul trampolino posso fare cose che a terra non posso fare perché è ammortizzato. Io per il momento lo metto sopra le mie pedane vibrante, sperando non farmi male che ho pedane vibrante sotto e non posso saltare troppo. Ma quando sono su un trampolino, non me la devo spostare per forza ragazzi, rischio di rompermi le pedane vibrante, mi metto di qua. Quando sono sul trampolino c'è due cose che stanno succedendo. Il primo è un pompaggio, ok? Abbiamo proprio, ogni volta che a terra c'è un pompaggio, in questo pompaggio aiuta a drenare. Così, magari voi non la potete vedere, ma se ti metti la mano sulla coscia quando stai moleggiando, non dovete neanche saltare più di tanto per avere questo risultato, sentirai proprio questa sorta di contrazione. Questa contrazione aiuta ad aumentare il ritorno linfatico, aiuta proprio il microcircolo, ricordando una cosa, qual è che il nostro microcircolo è a forma di chiuse, ok? Questa è una vena, giusto? Ok, non si riapre affinché non lascio la mano, vedi? Si è riaperto, di nuovo, così, vedi? Sparito, ritornato. Questa è una vena, ovviamente, ma anche del sistema linfatico è a chiuse. Quando sto saltando su un trampolino, che cosa succede? Cioè, comincia ogni volta che atterro a drenare, ok? E aiuta sia il ritorno venoso, sia il ritorno linfatico ad essere attivato. Ma talmente potente, che cosa succede? Che anziché andare sulla classica, canonica, vie che sono, diciamo, rispettate dal nostro corpo da fermi, le zone che sono afflitte dagli anestetismi delle cellulite sono sclerotiche. E che cosa fa il tuo corpo? Se chiunque ha un po' di anestetismi delle cellulite lo sa, se lo tocchi è fredda. Perché è fredda? Perché il corpo dice, sai che ti dico? Se tu hai bozzetti di anestetismi delle cellulite sulla coscia, sopravviverai comunque. Perché il grasso sottocutaneo serve come cuscinetto, da una parte, e come termocoperta dall'altro. Così, se è liscia o forma di bozzetti, il tuo corpo gli può, diciamo, importare di meno. Così, quando io sono su questo, diciamo, trampolino, che cosa succede? Tutta la pressione di spinta da basso verso alto per il microcircolo è talmente intensiva, o intensiva, perché è una spinta, apre anche le vie secondarie. Ok, così, anche se quella zona non riesce comunque ad essere irrorato di ossigeno e quant'altro, quando salsi sul trampolino può succedere, può aiutare. L'altra cosa è che quando sono sul trampolino, volente o non volente, c'è questo piccolo gioco dolce che fa su e giù e su e giù e su e giù. Questo è un massaggio del tessuto connettivo e rallenta piano piano quelle aderenze. Molte donne, molte persone che hanno utilizzato il mio trampolino, dicono, guarda Jill, veramente aiuta tantissimo con l'estetismo delle cellulite. Voglio vedere se qua ho qualcosa su l'estetismo delle cellulite. No, non ce l'ho qua. Vado avanti. Seconda cosa che possiamo utilizzare è la pedane vibrante. La pedane vibrante e il trampolino sono molto similari, sono cugini, congini. Entrambi usano la forza di accelerazione, vuol dire ipergravità per allenarci. Il trampolino è altamente aerobico perché sei tu che devi produrre il movimento. Produci il movimento sei tu che la stai lavorando e qui stiamo parlando di 5 forze G. Quando salgo su una pedane vibrante invece, scusate perché, eccoci qua, la accendiamo. Quando salgo su una pedane vibrante è totalmente passivo, non è un lavoro aerobico affatto, ma mi può portare a 7 forze G, 9 forze G, dipendendo dal modello che sto utilizzando. E questa fa diverse... Cioè, è un massaggio del tessuto connettivo, innanzitutto microscopico ma iperintenso. Vedete come comincia a ballare le mie cosce, ballare a micro oscillazioni che arrivano sull'esterno coscia, sul gluteo. E perché è buono questo? È buono questo perché il massaggio non è ampio, non ci sono strattoni, non c'è nulla che, tra virgolette, dà fastidio alla zona e non è doloroso perché una persona che ha un anestetismo delle cellulite, che è la zona sclerotica, la zona sottostante è sclerotica, sa, ok, sa che le duroni dell'anestetismo delle cellulite sono dolorose perché c'è l'infiammazione, perché là sotto la pelle dove io non riesco a portare via i metaboliti, che vuol dire i detriti cellulari del processo metabolica, io comincio a avere infiammazione. È dolente, è fredda perché non c'è il microcircolo e dall'altra parte è dolente perché c'è l'infiammazione. Quando sono sulle pedane vibranti, innanzitutto guardate la grandezza, come si può dire, la globalità dell'interazione, della vibrazione perché un massaggiatore che magari mi potrebbe aiutare con un massaggio linfodrenante non può massaggiare entrambi le gambe, fronte e retro, dalla caviglia fino alle anche, entrambi le gambe nello stesso momento, ok? Di solito il massaggio quanto dura? 40 minuti, 50 minuti, però c'è 5 minuti qua e 5 minuti qua, e 5 minuti qua, e 5 minuti qua, così alla fine avrai fatto 50 minuti di seduta, però non sarà stato 50 minuti di zona con una pedane vibrante, quando io posso starci sopra per 20 minuti, ma 20 minuti in continuazione, tutti i tessuti dalla caviglia fino al punto vita. E questo porta, che cosa? Un massaggio, una riduzione delle aderenze di questo tessuto connettivo sottocutaneo. Così aumentiamo l'ossigenazione dei tessuti, cominciamo ad avere un interscambio dei nutrienti e la terza cosa, cominciamo ad avere un prurito, le prime volte, più sei avanzato con i anestetismi delle cellulite, più sentirete il bisogno proprio di scappare in bagno, prurito, calore, perché tu stai riattivando il microcircolo sottocutaneo, che magari non è stato attivato per tanto tempo. Così, la pedane vibrante ci aiuta tantissimo a avere un massaggio che è un normale massaggiatore o un normale centro estetico che ti usa, le macchine che funzionano. Io non sto dicendo che non funzionano, guardami, ascoltami molto bene, funzionano da morire, funzionano da morire, ma il problema è che sono costose e a volte sono anche molto fastidiose, perché quando tu prendi una zona che è infiammata, sclerotica, piena di bozzetti, duroni, cioè perché sono proprio inchilosate in quella zona, se qualcuno comincia a mettersi le mani, tu salti, tu fai dei salti che proprio ti possono sentire a quattro isolate di distanza, perché c'è l'infiammazione. Così abbiamo la possibilità di andare a stimolare, con questa micro oscillazione, riscaldare, drenare e migliorare notevolmente gli anestetismi delle cellulite. L'altra cosa è che quando questi prodotti stanno a casa, la posso fare anche tutti i giorni, quando vado in un centro estetico, ma magari vado una volta alla settimana. Adesso parliamo delle coppe, perché io devo drenare e ripeto, le centro estetici funzionano da morire, veramente funzionano da morire. Il problema, qual è? Il problema che a volte è arrivare, avere il tempo di andarci, avere voglia di andarci, avere i soldi per andarci e così. Queste coppe che sono in silicone sono una ganzata, perché se io applico una crema lipolitico, questa crema effetto rassodante, però io ho anche crema bruciagrassi, snellente e rassodante, io ho la pelle un po' matura, così preferisco rassodante, ma una persona che sta alla prima armi con le coppe e con magari un po' di adipe in eccesso, io vi invito a prendere quello che è una bruciagrassi. E che cosa fanno queste ventose? Queste ventose ci aiutano a fare una sorta di suzione. Questa suzione, che cosa porta? Vascularizzazione, porta sangue in superficie, sangue in superficie porta nutrienti e ossigeno e aiuta, se io comincio a tracciare dal genocchio fino alla coscia, perché non vuoi andare contro corrente, non vuoi spingere verso basso, perché abbiamo bisogno di portare i liquidi da basso verso alto per essere drenati, ok? Vedete quanto va scolorizzato, devi anche stare attento a non lasciare troppo in posa, perché se la lasci troppo in posa rischi di farti uno succhione di quelle meravigliose. Queste sono le stesse coppe, mi fa troppo ridere che ho visto The Rock altro giorno, che aveva la schiena piena di tutti questi rossori, perché lui ha detto la prima volta che prova le coppe, sembra molto peggio di quello che è, le coppe è una vecchia, antichissima usanza cinese che aiuta a portare ossigeno, perché quando mi muovo i liquidi nel corpo, in particolar modo il microcircolo, sto portando salute, perché il microcircolo è quello che comanda. Ok, così, il bello di questo piccolo trattamento qua è che mi aiuta proprio a rimodellare, drenare e migliorare tantissimo la zona per il microcircolo, perché se ho, e questo devo dire, ok, qua devo fare una promessa, più sei avanzato con un anestetismo delle cellulite, più la prima volta farai delle salti, perché comunque dove ci sono i duroni, dove ci sono le adderenze, c'è infiammazione, così quando passi per la prima volta la coppa sopra la zona, potresti sentire un po' di fastidio, in quel caso che cosa fai? Dai meno pressione, fai una pressione un po' più delicata, il mio consiglio qui è di dedicare dieci minuti a gamba, io mi guardo sempre la televisione, la sera mi metto a fare tutti i miei trattamenti, ok, e tratti dieci minuti qua, ti puoi girare a lavorare sul gluteo, che non faccio qui in diretta, e puoi aiutarti proprio a drenare, rimodellare e riportare ossigeno nella zona per migliorare il microcircolo. Abbiamo due coppe, le due coppe, cioè una grande e una piccola, perché posso utilizzarlo anche per le braccia, per la schiena, per la pancia. L'altra cosa buona di queste coppe è, scusatemi, rimetto così, l'altra cosa buona di queste coppe è che sono indistruttibili, sono fatte di silicone alimentare, la puoi tranquillamente lavare, anche in lavapiatti, e le devi perdere prima che si distruggono. E questo è un altro modo per aiutarci con gli anestetismi delle cellulite. Altre cose che ho diverse persone che poi dicono, sì Gil, va bene, però ho una cellulite che è avanzata, ho la pelle matura, mi sono portata magari, faccio un lavoro a bruciagrassi con trampolino, mi posso utilizzare la pedana vibrante che aiuta tanto le aderenze, un vero e proprio massaggio del tessuto connettivo, posso usare le coppe che dopo già 10-14 giorni di uso delle coppe vedrai i volumi diversi della vostra gamba, la gamba proprio cambia. La pelle, questo è un dermaroller, un dermaroller 05, 05 le usiamo per la pelle, ho una pelle matura, perché comunque ho 50 anni e questo vuol dire che la pelle cambia. Io posso anche utilizzare un integratore tipo Skinmenu che mi aiuta la qualità delle pelle, ma questo è un meccanismo fantastico per la rigenerazione delle nostre fibroblasti, perché il fibroblasto risponde anche quando sono su una pedana vibrante o quando sono su un trampolino, il fibroblasto risponde anche al movimento stesso della pelle, se la pelle si sta muovendo il fibroblasto viene attivato. Io posso usare questo per l'interna coscia, per tutte le mie amiche che hanno magari problemi con l'interna coscia, le cominciamo a tracciare piccoli pezzi, 1, 2, andiamo per 15, poi sposteremo e cominciamo a proprio spingere. Non andiamo a fare movimenti troppo ampie perché potresti graffiarti, invece faccio piccoli incrementi tracciando un grid, questo sarebbe perfetto di fare dopo, faccio prima le coppe e poi faccio questo per finire in bellezza. Così, dopo che ho fatto 15 per lungo, faccio 15 per largo, facendo diversi distretti della pelle. Eccellente per tutta la pelle del corpo, incluso la pelle della faccia uso un 0,25, per pelle delle cosce, per la pancia uso una 0,50 che vuol dire millimetri. Le cose più lunghe vi consiglio di fare soltanto con un dermatologo o con una professionista perché potrebbero perforare molto di più. Che cosa fa il dermaroller? Ti faccio vedere qui, dopo la devo andare qui. Il dermaroller penetra la pelle creando dei microfori e questi microfori, proprio non troppo diciamo profonde, ok, non riesce ad arrivare troppo in profondità, ma questi piccoli microfori chiamano poi a loro tutti quelli che sono fattori della ricrescita per ricostruire i microfori. Lo fanno anche con i laser, quando si vede questi laser che sono proprio per il lifting della pelle, se guardi bene la faccia trattata, sono tanti, 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 tanti minuscoli, minuscoli fori che vengono poi ripristinati dalle tue fibroblastiche e producono più collagene e ti aiutano. Se vogliamo anche andare oltre possiamo sempre ricordare usare le creme, le creme che sono un coaduvante di tutti gli altri sforzi che stiamo facendo e l'altra cosa è se abbiamo problemi di vene, se abbiamo problemi di fragilità capillare, problemi di vene varicose, problemi legati al microcircolo, farmaven e per le vene, ok? È un fitoterapico alla base di tantissime bacche proprio, infatti il colore delle capsule sono viola perché c'è mirtillo, rusco, centella asiatica, ipocastano, veramente c'è tantissimi frutti di bosco e non solo, è dentro questa formula che aiuta a potenziare e fortificare il ritorno venoso perché protegge le vene stesse e aiuta le vene a diventare più forti e molto molto più efficace nel drenaggio. Così se noi guardiamo all'insieme il nostro problema delle cellulite molti pensano che è una questione di grasso. Il grasso fa parte del gioco, per carità, ma è molto più legato al problema di un microcircolo sclerotico sulla zona sottocutaneo che soffoca il corretto, diciamo, metabolismo sottocutaneo, il tuo corpo non gli può fregare niente perché il tuo corpo sta provando di salvarti dallo smog, dallo stress, da tutto quello che ci intossica durante il giorno, sta provando semplicemente di tenere gli organi interni, diciamo, sani e salvi. Per questo ignora il microcircolo sottocutaneo. Vi ricordo che i anestetismi delle cellulite si formano solo sotto la cute, non dentro il corpo ma solo sotto la cute perché è legato a questa scala di valori che ha il nostro corpo, è nato in sé, proprio per tenerci in vita, ma noi volendo possiamo sempre trovare le scamotage e delle cose che ci possono aiutare a drenare. Un'altra cosa che possiamo utilizzare per drenare sono i tessuti attivi bioceramiche come Be Good e ti faccio vedere anche un piccolo contributo di Be Good perché è importante capire anche questo tessuto che è fatto di infrarossi a raggio lontano, che vuol dire, questi sono piccoli cristalli come piccoli pietre oliari che si accendono con il calore nel nostro corpo e poi si attivano e ci aiutano a far penetrare raggio infrarosso lontano in profondità per agire sull'acqua del corpo. Andiamo a vederlo insieme perché è qualcosa di straordinario. Allora, Dermo, no, aspetta, questo è quello sbagliato, quello per essere belli, perché quello è Hyaluronic, scusami, ah non ce l'ho, vabbè, ti faccio vedere i risultati, questi sono belli. Allora, Be Good, noterete tanti liquidi che sono proprio ridotti mettendo questo tessuto perché agisce su le macro molecole dell'acqua. Noi abbiamo macro molecole quasi nuvoloni nel nostro corpo che è una ritenzione idrica e quando cominci a mettere un tessuto come Be Good interagisce con le molecole dell'acqua disaggregando l'addizione molecolare, passando da goccioloni a goccioline, ok, vedi come c'è anche il sollevamento perché stimola anche il fibroblasti a produrre più colagine. Guarda la pancia di questa ragazza che è magra, però molto più asciutta, molto più drenata quando si è messo il body di Be Good. Questa è una ragazza in menopausa che come puoi vedere che di nuovo la pancia è molto sgonfiata, è così. Armi per la cellulite. Innanzitutto ricordate che la cellulite non si cura, si tiene a bada perché è sempre legato al processo di invecchiamento, al processo di rallentamento del nostro corpo. Il nostro corpo rallenta, ok, come una bella trottolino che è carico a molla, non sai, la trottolino a molla, no? E poi come ci fa? Uu, 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 e si rallenta. Si rallenta tutto nel nostro corpo. La produzione di collagene, la produzione proprio dei capelli, la produzione del metabolismo energetico e anche il microcircolo, così. Noi possiamo, se abbiamo gli armi giusti e un pizzico di costanza, avremo veramente tanta, tanta, tanta opportunità direttamente a casa nostra per rallentare anche questa degenerazione del microcircolo che potrebbe portare poi ai anestetismi delle cellulite. L'altra cosa che con sia il trampolino che con le pedane vibrante, la cosa molto bella è che in pochissimo tempo anche in un stadio molto avanzato di anestetismi delle cellulite abbiamo visto migliorare tipo wow, cioè proprio la gamba più liscia, più bella, più tonica e semplicemente legato a questa oscillazione che vanno ad ammorbidire le aderenze, riliberando il microcircolo, drenando la zona e poi alla fine c'è veramente qualcosa di straordinario. così. Volevo aiutarvi a proprio capire al meglio di che cosa si tratta la cellulite e come migliorarla e vi aspetto sempre sui social per affrontare i temi di benessere e di anti-invecchiamento. Baccio dalle Gil e passate un weekend strepitoso. Ah, ultima cosa, offerta del weekend per chi interessa, la pedane vibrante sul sito colsport.com è in offerta fino a domenica sera alla mezzanotte con la spesa di spedizioni gratuite, così se volete anche la vibrazione in casa vostra, questo è il vostro weekend. Baccio dalle Gil e passate una serata fantastica. Ciao for now!